Una fibrillazione senza precedenti, quella che sta precedendo la formazione per la composizione delle liste in vista delle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio prossimi. In provincia di Salerno, partiti ed esponenti, aspiranti e rappresentanti locali cercano di non lasciarsi sfuggire l'occasione per essere rappresentati e per rappresentare al tempo stesso il tanto richiamato territorio. Entrambi, imprese certamente non facili, il sistema elettorale da un lato ed il peso politico sempre meno incisivo nelle scelte delle direzioni nazionali dei partiti ha reso ancora più lontani i territori e di conseguenza anche le istituzioni locali dalla politica che decide, dalla politica che conta. Nonostante i proclami di tentativi di alcuni schieramenti piuttosto che altri, l'esempio più lampante viene dall'Udc che registra in queste ore una fuga di massa dei suoi massimi rappresentanti mortificati nella dignità di uomini e di politici per l'assenza tra le candidature utili a rappresentare del territorio salernitano, come hanno evidenziato in sede del comitato provinciale i rappresentanti dell'Udc capeggiati dal coordinatore Cobbellis. Candidature solo di servizio per i salernitani come quelle offerte anche ai sindaci dell'agro Pasquale Mauri, Felice Luminello e pare anche Sabatino Tenore. Salernitani in seconda fila anche nella lista Monti, il terzo movimento di centro con Udc e Fli. Stessa logica di prediligere candidature di Avellino e Caserta così come per l'Udc e così nella lista Monti, dopo il capolista Antimo Cesaro al numero 3 il cavese Armando Lamberti, docente universitario di diritto costituzionale ed il sarnese Pier Camillo Falasca e poi Tommaso Donofrio, Fabrizio Murino, Virgilia Remolino, Luigi Greco, fedele D'Arienzo. Ma non va meglio altrove, in alto mare la situazione nel PD salernitano che fa capo al sindaco De Luca al quale non scende giù il numero 1 al collegio Campania 2 per Enrico Letta. Per il primo cittadino del capoluogo non sarebbero stati rispettati gli esiti delle primarie, nessun problema in ogni caso per la presenza del suo delfino Fulvio Bonavitacola. In lista potrebbe esserci anche il nocerino Enzo Petrosino, ex vice sindaco della città capofila dell'agro. Pescherebbe nell'agro anche rivoluzione civile di Antonio Ingroia che ponterebbe su Gerardo Petti in rotta di collisione con altri esponenti dell'IDV. Posto di rappresentanza nel PDL per l'ex sindaco di Pagani Fabio Petrelli che negli ultimi tempi ha rinsaldato i rapporti con l'attuale commissario del partito di via Portelina Mara Carfagna che gli avrebbe chiesto in cambio la presenza in lista. Per lui però solo il numero 15 della formazione degli azzurri berlusconiani che invece vede blendate le posizioni della stessa Carfagna capolista ma anche del suo uomo di fiducia a Salerno Matteo Cortese, il cui nome compare al numero 5. Prima di lui al numero 2 l'ex ministro Brunetta che con questo collegio vanta la sua dimora quasi fissa in quel di Ravello, numero 3 l'altro parlamentare uscente Nunzia Di Girolamo ed Enrico Sarro. Dopo i primi 5 in posizione comunque utile o borderline, Antonio Lubritto ma anche i coniugi Aliberti da Scafati che dopo le polemiche dei giorni scorsi hanno riaperto il dialogo per garantire una presenza parlamentare al territorio con la presenza utile in lista o della signora Monica Paolino, attuale consigliere regionale e moglie del sindaco Pasquale Aliberti che però potrebbe lui stesso sacrificarsi rinunciando al sindacato. Al Senato, dove si gioca la partita più importante, visto il numero notevole di senatori che il PDL potrebbe riportare, il capolista sarà Silvio Berlusconi, seguito da Netto Palma, Nicola Cosentino, sul quale però ci sarebbe il veto di Angelino Alfano. Quarto posto per Luigi Cesaro e poi Cosimo Sibilia e Giuseppe Sposito. Ma oltre il sesto tutti i giochi sono ancora aperti. Fratelli d'Italia che venerdì scorso ha avuto a Salerno il suo battesimo ufficiale con la presenza di Giorgia Meloni e Ignazio Larussa punta ovviamente alla Camera sul presidente uscente della provincia Edmondo Cirielli mentre al Senato guida il leader Crosetto, poi Luigi Bobbio, Franco D'Ercole e i salernitani Marcello Feola e Pina Esposito. Cambio di casacca ma comunque in orbita centrodestra per Gerardo Soia che dal PDL passa al Grande Sud. Cambio di casacca ma comunque in orbita centrodestra per Giorgia Meloni e Pina Esposito.